Ciao Chiara, Francesca, Agnele, guardate attentamente, Bibbi c'è qualcosa di strano, Angelo, Sara, no, non c'è Sara, un mio dio, è un evento, Angelo senza Sara, cosa hai da dire? E' oltre che andrei su Youtube, no? Andrei su Youtube Ma cosa c'è a dire? Tutto bene, ecco io Ma Bibbi che c'è di strano oggi insomma? Come mai? L'ho litigato? Ma non è Sara Ma stanno litigato? Ma non è Sara? Angelo, dai, non fa così Non fa così, vieni qua, non fa così, abbracci, guarda qui, abbracci Abbracci, guarda qui, abbracci Lo stavo abbracciati Vabbè dai, alla prossima ci sarà pure Sara Ma io, eccola Ah, eccola, ciao Oh, vai, eccola, vai, eccola, vai, eccola, vai, eccola Oh, ma è visto, va, eccola